Ecco come si presentava stamattina via strada del confine a Belvedere di Tezze. I soliti incivili hanno scaricato i loro rifiuti e non è la prima volta. Scrive così un nostro telespettatore che ha inviato al nostro contatto WhatsApp 3403218379 immagini che denotano il degrado provocato da persone senza scrupoli, che gettano in maniera incondizionata rifiuti di ogni tipo e a farne le spese ci sono la collettività ma soprattutto l'ambiente. Ma spostiamoci di qualche chilometro e qui siamo a Casone di Mussolente in via Postumi in prossimità del cantiere della Pedemontana Veneta. Una nostra telespettatrice ci ha segnalato la presenza di altri sacchetti di immondizie gettati dalle auto in corsa. Un'ennesima situazione di degrado per cui bisogna ringraziare i soliti ignoti senza alcun senso civico di cui ci eravamo già occupati in passato segnalando la cosa anche al sindaco. E come hanno fatto questi nostri telespettatori anche voi continuate a indicarci ciò che non va davanti casa vostra. Noi cercheremo di arrivare a una soluzione portando le segnalazioni a chi di competenza.